Buongiorno ragazzi! Oggi siamo alla terza puntata della storia infinita di questo Amiga 500 che ho acquistato l'anno scorso. Una riparazione può durare così a lungo? Sfortunatamente la risposta è sì, considerando che non c'è un singolo pezzo all'interno di questo Amiga 500 che funziona come dovrebbe. Oggi parliamo della Diagrom e iniziamo a sostituire la membrana della tastiera dell'Amiga 500. Nei due video precedenti vi ho parlato dell'acquisto di questa Amiga 500 con parecchi accessori. Poi ho acquistato un secondo alimentatore, testato e funzionante, che però non è stato sufficiente a far partire il computer. Ho smontato pezzo per pezzo tutto l'Amiga 500 e ho ricostruito alcune piste corrose sul circuito stampato. Ancora non è chiaro il motivo della corrosione del circuito stampato, posso immaginare una goccia di liquido proveniente dall'esterno perché le piste sono lontane dai condensatori elettrolitici e non ci sono batterie nelle vicinanze. Proseguiamo la riparazione da dove l'avevamo lasciata. Testiamo la Amiga 500 con la Diagrom e vediamo come va. Per confrontare i risultati del test non mi sono procurato solamente una Diagrom, ho anche acquistato una seconda scheda madre, testata e funzionante. In questo modo possiamo vedere se le due schede madre si comportano allo stesso modo, agevolando e velocizzando la riparazione. Installiamo la Diagrom al posto della ROM originale della Amiga 500. La ROM originale della Amiga 500 si trova immediatamente a destra della CPU Motorola 68000. La ROM è identificata anche come U6. La prima operazione da svolgere è rimuovere la ROM originale della Amiga 500 dal suo zoccolo. Tramite un cacciavite a taglio, sottile ma con lama abbastanza larga, possiamo fare leva tra il chip e lo zoccolo, sollevando delicatamente i due lati della ROM. Ricordatevi, non fate leva con il cacciavite sul circuito stampato. La leva va fatta tra il chip e lo zoccolo. Inoltre, non applicate forza eccessiva. Millimetro dopo millimetro si solleva prima un lato e poi l'altro del chip, alternando i due lati fino a quando la ROM non si disincastra dal suo zoccolo. Dopo aver rimosso la ROM originale della Amiga 500, possiamo installare al suo posto la Diagram. Attenzione al verso di inserimento del chip. Tutti i chip vanno inseriti stando attenti all'orientamento. Premete la Diagram verso lo zoccolo solo quando siete sicuri che tutti i piedini si trovino all'interno dei contatti dello zoccolo, altrimenti si potrebbero piegare. Accendiamo! Che schermate strane! Ah ecco! Altre schermate strane. Dopo le paragoniamo con l'altra scheda madre e vediamo se sono uguali. Niente, la tastiera non fa nulla. Prendiamo l'altra scheda madre e paragoniamo i risultati. Inseriamo la Diagram al posto della ROM originale, utilizzando la stessa procedura vista in precedenza. La seconda scheda madre si riconosce per via degli adesivi incollati sui vari chip. Rimuoviamo la ROM originale dalla seconda scheda madre e montiamo la Diagram. Dopo aver messo la Diagram sulla seconda scheda madre, ricolleghiamo tutto. Monitor, alimentatore e tastiera. Essendo tutto così aperto, prestate attenzione a non far toccare le parti metalliche della tastiera contro il circuito stampato. Inoltre, inserite i connettori delicatamente per non spezzare il PCB. Accendiamo! Ah, bene! Le schermate sono strane, ma sono equivalenti a quelle viste prima, con la scheda madre riparata. Proviamo a premere qualche tasto sulla tastiera. Nulla. A questo punto mi viene da pensare che la tastiera sia rotta, dato che si comporta allo stesso modo con due schede madre differenti. In realtà, mi sono accorto che il tasto 5 funziona se lo si preme con una certa forza. Apriamo la tastiera per vedere com'è fatta. Iniziamo ad aprire il connettore dello stampato flessibile della tastiera della Miga 500, altrimenti detto membrana. Il piccolo circuito stampato dietro è protetto da un foglio di plastica trasparente. Svitiamo le viti e togliamo anche la fascetta dei cavi. A presto! 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 500 solo se il connettore è aperto. Sulla parte posteriore della tastiera della MIGA 500 c'è una serie di viti da svitare. Sono tantissime! Armiamoci di pazienza e svitiamole tutte! Grazie a tutti! Quando ci sono così tanti componenti vi consiglio di inserirli in una bustina in modo da non perderli. Inoltre fate tante foto, solo così riuscirete a rimontare tutto come era in precedenza. Togliamo il fondo metallico della tastiera. C'è un po' di luggine ai lati ma le condizioni sono buone. All'interno della tastiera della MIGA 500 si trova il circuito stampato flessibile, detto anche membrana. Si può togliere semplicemente sollevandolo. Vediamo che è di marca Mitzumi codice A500E56A619B. Posteriormente ai tasti è presente una gomma conduttiva. Quando si preme un tasto la gomma conduttiva si appoggia alla membrana cavallottando due piazzoli adiacenti. Sulla tastiera c'è anche il led del tasto Caps Lock. Nella speranza di non dover sostituire la membrana della tastiera mi sono messo a pulirla con un panno e dell'alcol. Sfortunatamente la pulizia ha evidenziato diverse piste corrose. La continuità elettrica è interrotta, come dimostra il tester. Anche se alcune sembrano buone, tantissime piste sono interrotte. So che ci sono alcuni che riparano le piste con degli appositi pennarelli con vernice conduttiva, ma qui le piste interrotte sono davvero tante. Sicuramente facciamo prima a sostituire la membrana della tastiera. Cerchiamo su internet quanto costa la membrana nuova. Ci sono diversi modelli di membrana, dobbiamo ordinare quello corretto. Il codice che avevamo letto prima sulla membrana originale della MIGA 500 è A500 e 56 A619B. Questa dovrebbe andare bene. Come fa notare il venditore, ci sono diversi modelli di membrana per la MIGA 500, per cui dobbiamo stare attenti a ordinare quello corretto. Questa sembra perfetta, comunque, perché sostituisce anche la MIGA 500. Su quest'altro sito, ad esempio, c'è proprio la membrana specifica con il tasto ENTER corto. Possiamo immaginarci che in questo sito vendano anche altre versioni di membrana. Infatti, c'è anche la versione A619A con il tasto ENTER lungo, e questa è sbagliata per il mio MIGA 500. Piuttosto dovremo acquistare la A619B con il tasto ENTER corto. Bene, ordiniamo la membrana. Il prezzo totale è poco superiore a 36 euro, trasporto incluso. Questo MIGA 500 inizia a costare, non solo in termini di tempo. Nell'attesa che arrivi la membrana, procediamo con la pulizia delle restanti parti della tastiera. Cerchiamo di pulire bene la gomma conduttiva che si trova dietro ai pulsanti, in modo che non ci sia polvere o altro tipo di sporco. È un lavoro ingrato, ma va fatto. Puliamo anche la parte anteriore, della tastiera, dato che è in condizioni pietose. Utilizziamo uno straccio umido con pochissimo sgrassatore. Attenzione a non esagerare con solventi o prodotti chimici in generale, perché potreste cancellare le scritte dei pulsanti. Meglio utilizzare un panno con acqua e una leggerissima quantità di sgrassatore. Avevo già soffiato la tastiera con il compressore nel video 1 della serie dedicata alla riparazione di questo MIGA 500. Nello stesso video potete vedere anche come smontare la MIGA 500. Oh, guardate com'è venuta bene! La tastiera è bella pulita! La asciughiamo con un panno e anche con l'aria compressa. Sembra una tastiera nuova! Occupiamoci anche della lamiera posteriore. La puliamo bene. Ci sono delle parti arrugginite. Cerchiamo di rimuovere la ruggine. La grattiamo via con un cacciavite e poi anche con la carta vetrata sottile. Dopo aver rimosso la ruggine, passiamo un po' di alcol per sgrassare il metallo. Bene! La piastra metallica posteriore della tastiera della MIGA 500 è pronta per una mano di vernice trasparente. In questo modo cerchiamo di evitare che la tastiera si arrugginisca nuovamente. puliamo anche il piccolo circuito stampato della tastiera e mettiamo un po' di disossidante nel connettore del circuito stampato flessibile, la membrana della tastiera. Ok ragazzi, direi che per oggi non possiamo fare altro con la tastiera della MIGA 500 in attesa della membrana. Possiamo però provare la MIGA 500 con il mouse che mi hanno venduto insieme all'osso quando l'ho acquistato. Già che la seconda scheda madre della MIGA 500, quella testata e funzionante, è collegata, inizio a provare il mouse con quella. Poi lo proveremo anche con la scheda riparata per vedere se funziona. Con il mouse spero di poter avviare anche gli altri menù della Diagrom e procedere con ulteriori test. E' fumata una resistenza! Volete dire che il mouse non funziona? Oppure che il venditore mi ha dato un mouse non compatibile con la MIGA 500? Da una ricerca su internet sembra proprio che questo mouse Logitech sia un mouse seriale per PC e non un mouse per Amiga. Ma dico, che cosa ci faceva un mouse per PC nell'otto della MIGA? E' vero che sostituire la resistenza che è bruciata a causa del mouse non è complicato, però… Ok ragazzi, per oggi basta così, non possiamo fare altro. Vi anticipo che ho ordinato un mouse originale per Amiga 500 e un Gotek per caricare file da pendrive al posto che da floppy disk. Questo ovviamente oltre alla membrana della tastiera. Inoltre vedremo la sostituzione della batteria della scheda di espansione Amiga A501. Per ora metto via questo Amiga 500 parecchio sfortunato! Per essere avvisati quando pubblicherò gli altri video della riparazione di questo Amiga 500 e anche gli altri video relativi a retrocomputer ed elettronica vintage vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo! Ciao!